Altro incontro con Giovanni Matera, imprenditore, titolare della Matera Arredamenti, un vero, un grande esperto di marketing, autore di pubblicazioni, di corsi, di formazione, una ricchezza per il nostro territorio e analizzando la cassetta degli attrezzi, il suo libro, ho trovato pieno riscontro rispetto a quello che è stato sempre un mio concetto. Leggo questa espressione in un mercato fatto di aziende simili con prodotti simili, con qualità simili, con un marketing simile, con persone simili, quindi in un sistema massificato, o ti distingui o ti estingui. E io molte volte parlando, io non sono un esperto di marketing, però dicevo se si vuole avere successo, se si vuole lanciare un messaggio che davvero scuota e prenda le coscienze, bisogna avere creatività, bisogna avere inventiva. Io faccio l'esempio, se io prendo, ci sono dieci gatti e devo scegliere e tutti i dieci gatti sono bianchi e sono uguali, l'uno vale l'altro, ma se tra i dieci gatti mi trovo un gatto con un corno in testa, sto estremizzando il concetto, questo gatto mi colpisce. Ecco la necessità di distinguersi per non estinguersi. Ti devo fare un elogio perché su questo è stato scritto un libro che si chiama La Muccaviula. Non lo sapevo. Contadino in una campagna francese dal treno per 200 km. Matera, sa com'è nata questa mia idea del gatto il paragonio? Io dicevo, parlando di campagne di comunicazioni elettorali, i vari candidati, perché parliamoci chiaro, perché oramai i programmi sono uguali, tutti vogliono il lavoro, tutti vogliono la tutela dell'ambiente, tutti vogliono la salvaguarda dell'occupazione, tutti vogliono la ricchezza, mica ti possono dire dobbiamo morire di inquinamento. Però poi ci deve essere quel quid pluris, quell'elemento di differenza, quel gatto con il corno in testa, tra virgolette, che riesce a piacere di più, ad attirare più del gatto comune. Esatto. Dicevo appunto, in una campagna francese, Daltrino, questo qua, vede per 200 km sempre mucche marrone. A un certo punto vede una muccaviula e lui si sveglia. Ecco, nel marketing viene molto usato questo concetto, cioè differenziarsi, o ti distingo o ti estingo, come dice la frase. Beh, io quando mi sono reso conto che il mondo oramai era questo, era tutto simile, con cose simili, con marketing simile, ho capito che là dovevo differenziare. Ma in che cosa dovevo differenziare? Inventare un nuovo prodotto? È stato tutto inventato? Potevo innovare, potevo fare. La mia idea è stata inserire la formazione all'interno della mia azienda. Ho pensato che in quel momento, che attraverso la formazione potevo fare la differenza. Io potevo diventare la muccaviula e così è successo, perché lavorando sugli ultimi nostri 20 cm, che è il nostro cervello, o gli ultimi nostri 20 cm, che è la prima linea della nostra azienda, ho potuto fare differenza rispetto alla concorrenza. Il bello è che quando tu acquisisci conoscenza, non si vede. Però poi si sente. Loro, la concorrenza non la vede, come se tu stai comprando un camion nuovo, l'hanno visto che hai comprato un attrezzo nuovo. Acquisire conoscenza del tuo cervello e crescere giorno dopo giorno, loro non la vedono. Magari ti ridono pure in faccia, dici ma che stai leggendo? Oppure ti stanno facendo il lavaggio del cervello e tutte queste cose qua e intanto tu gli stai sfilando i clienti da sotto il sedere. Questo è stato il mio intento, quello di fare la differenza proprio attraverso la formazione. Poi c'è un altro concetto, che io la formazione come sto facendo in questo momento, la posso anche donare agli altri e non per questo io la perdo. Questo è un concetto importante. Se io do un consiglio a te Luigi, non mi sto privando io per dartela a te, no! La posso regalare anche al mio territorio, affinché il mio territorio cresca, senza che io me la tolgo da me, alla mia azienda. Questo è un concetto molto importante. Nasce un pochettino, è chiaro che bisogna essere un pochettino altruismo e applicare un altro concetto molto importante, che è quello dello scambio in abbondanza. Ma sempre attraverso la formazione poi ho capito questi concetti. Se io scambio in abbondanza, riceverò. Scambiare in abbondanza è dare quel quid in più, quella cosa in più, in modo che anche il cliente stesso, ma anche il mercato, il territorio, se ne accorge, è un domani che magari deve fare un acquista, dice beh, vado a premiare questa azienda, perché pure sta facendo tanto per il territorio anche.